Quando padre Gianluigi Pasquale è con noi, allora sonare sempre testa. Bentornato. Grazie, bentornato. Bentornato, bentornato padre. Faccio bene a tutti. Ordine dei frati minori Cappuccini, professore della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Urbaniana. Ora, Pontificia Università vuol dire che si è lì non solo per i grandi meriti da professore, ma per far sostenere esami ad altri studenti e quindi San Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti, oggi come racconto ci sta proprio bene. Direi proprio di sì. Oggi, 29 maggio 2019, parlare di San Giuseppe da Copertino, nato nel 1603 a Copertino, appunto un paese vicino a Lecce, quindi in Puglia, e proprio ad hoc perché appunto si va all'università cercando anche di voler bene agli studenti, di aiutarli. Poi vedremo come e in che senso San Giuseppe da Copertino è il patrono degli studenti, era ed è il santo dei voli e anche è il fanciullo della ilibatezza. Ecco, vedremo bene perché è il patrono degli studenti. Lei ci ha fatto sapere, e questo è sempre il padre Gianluigi Pasquale, fa dei racconti meravigliosi, racconti, ci dice delle cose che non sapevamo, che alla sede della NASA, cioè parliamo della casa degli astronauti per capirci, c'è un quadro con l'effigie di San Giuseppe da Copertino. Di San Giuseppe da Copertino, perché? Innanzitutto perché, lo diciamo volentieri ai telespettatori che ci stanno ascoltando, tutta la California, quindi la parte ovest degli Stati Uniti, è stata evangelizzata dai francescani e San Giuseppe da Copertino poi si fece francescano. Quindi abbiamo San Francisco, San Francesco, Los Angeles, Santa Maria degli Angeli e una città, Cupertino, da San Giuseppe da Copertino, che è proprio nella Silicon Valley, ma anche perché, essendo il santo dei voli, la NASA direi che è esperta per l'antonomagia dei voli. E c'è appunto il quadro di San Giuseppe da Copertino. Parleremo del perché i voli, che cosa si intenda per voli, ma prima, siamo andati a visitare i luoghi di San Giuseppe da Copertino. Andrea Postiglione ci porta proprio a Copertino, quindi dovete immaginare che dalla Puglia, poi questo santo, attraverso vari viaggi, arriverà fino a Osimo, siamo vicini ad Ancona, dove ancora oggi è sepolto. E dove ci sono un sacco di foto di ragazzini e di ragazzine che devono fare gli esami. Lo so bene. Andrea Postiglione, vediamo. Ci troviamo nel luogo più significativo di Copertino e del santuario di San Giuseppe da Copertino, nella stalletta dove il santo dei voli nacque il 17 giugno del 1603. In occasione della sua beatificazione, nel 1753, l'Universitas del Tempo volle costruire una chiesa in onore del nuovo beato, costruendo un santuario in suo onore che inglobasse la stalletta dove egli nacque. Il 17 giugno dell'anno scorso, finalmente è stata riaperta questa chiesa e ridonata alla città di Copertino e ai devoti di San Giuseppe, dopo tre lunghi anni di lavori. Durante i lavori la gente desiderava entrare per fermarsi un attimo in preghiera nella stalletta. Ci troviamo nell'antico santuario di Santa Maria della Grottella a Copertino, provincia di Lecce. San Giuseppe da Copertino è vissuto in questo luogo per 17 anni. E questo luogo meraviglioso è depositario delle estasi e dei voli di San Giuseppe da Copertino. Qui, presso l'altare di Sant'Eligio, dove Giuseppe da Copertino si trovava, da questo punto, da questo punto, lui fa un volo rapido verso l'altare dove era solennemente esposto il Santissimo Sacramento. Qui Giuseppe da Copertino celebrava l'Eucarestia, che poteva durare dalle 4 alle 5 ore, sospeso in aria. Lui che aveva ricevuto dal Signore il dono di volare. Ci troviamo nella cella del sangue, uno dei tre luoghi significativi, in questo luogo della Grottella, dove Giuseppe da Copertino veniva a flagellarsi. Questa cappella dove i frati attualmente si riuniscono in preghiera è importante perché in questo luogo dove si trova il tabernacolo c'era la celletta dove dormiva San Giuseppe da Copertino. Ed è una storia piena di santità e di dolcezza che parte da una stalla. Esattamente, proprio dalla dolcezza, come le ha detto Paola Saluzzi, della stalla. Perché era il sesto figlio di una famiglia poverissima e il papà, che si chiamava Felice, aveva perso tutti i beni, proteggendo un suo amico e aveva poi perso tutto effettivamente e quindi Giuseppe, l'ultimo e l'unico maschio, nacque in una stalla. Questo ricorda due cose. Gesù, l'iconografia in questo senso non ha dubbi, anche gli studi storici, e soprattutto San Francesco perché San Francesco ha voluto vedere Gesù nascere in una stalla. Ecco perché si è fatto francescano. Ma la prima caratteristica di Giuseppe era che era di una innocenza unica. Infatti, proprio a motivo della sua povertà e della sua dolcezza, non sapendo che cosa fargli fare, pensi, lo mandarono a fare il garzone. Non era nemmeno capace di fare il calzolaio e siccome però la mamma vedeva che gli cadeva tutto per terra, questa è una caratteristica di San Giuseppe da copertino, non riusciva a trattenere nulla. forse era un anticipo del voto di povertà, lo invitò a entrare appunto tra i conventuali che peraltro in proprio oggi a Roma sono riuniti in capitolo generale al convento della Grottella. Ma le cose non andarono subito bene perché non era proprio così versato nell'imparare il latino, ma poi c'erano questi voli. Ecco, quindi lui era tra, si definiva fratell'asino, cioè non riusciva a, non che non si applicasse, ma aveva delle difficoltà, eppure superava tutti gli esami, da cui chiaramente diventa patrono degli studenti. E poi questi voli, che cos'erano? Allora rispondo alla prima domanda e poi ritorniamo al patrono degli studenti. I voli vanno capiti teologicamente così, ricordano la frase di San Paolo, e questo è anche il messaggio di questa puntata, pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Quando Giuseppino, Giuseppe, sentiva il nome di Gesù e di Maria, lui scoppiava in un grido e poi spiccava il volo, ma appunto la gente pensava che fosse un folle. Ecco, e concedeva una grazia. Finché si arrivò a Napoli nel 1638 a che ci fu il Tribunale dell'Inquisizione e ci fu niente po' di meno che il Papa Urbano VIII. Nominò il nome di Giuseppe e di Maria e San Giuseppe da Copertino spiccò in volo naturalmente nella sua innocenza. E lì Papa Urbano VIII capì che non c'era millanteria, che non erano delle menzoni. Non era stregoneria, non so come dire, non era niente particolare. Era un levitare, insomma. Era un levitare, era un suo desiderio di stare unito all'alto e a Dio che è in cielo, pur sapendo che è in cielo in senso metaforico. Ma c'è un'altra interessante cosa che spiega invece il suo patrocinio degli studenti e ha a che fare con i vescovi, in questo caso non con i papi. Ma perché San Giuseppe da Copertino è il patrono degli studenti? Non lo so, ma fa tanti miracoli. Guardi padre, glielo posso garantire. Io gli ho rotto talmente l'anima, è il caso di dirlo. Tutti gli esami possibili ho chiamato San Giuseppe da Copertino e sono passati tutti. Ecco, questo mi fa piacere. Quindi posso garantire in prima persona. E anche... Non solo, è i miei nipoti, è i figli degli amici, sempre Costantino di San Giuseppe da Copertino nel diario. Mi raccomando, pregalo, pregalo. Non lo so. Si presentava agli esami, ma non è che fosse appunto così preparato sempre. E allora lui pregava Gesù e dice tu fai... Io faccio da tromba, tu mettici l'aria e allora tutto il suono ridonda. Questa è la famosa frase di San Giuseppe da Copertino. Meraviglioso. Ma i due tasselli per cui è passato poi dal sacerdozio nel 1628, cioè superato gli esami, sono due. Primo, il vescovo lo interroga proprio sull'unico passo che lui sapeva a memoria. Ecco, che era un passo mariologico. E Maria esultò nel suo grembo. Poi il secondo esame consisteva nel diaconato. C'erano 23 frati, lui era il ventitresimo. Al ventiduesimo il vescovo dice ma li vedo tutti preparati, quindi anche l'ultimo, che era Giuseppe, sarà preparato e fu promosso. Ecco, quindi incoraggiamo gli studenti però a studiare, a studiare comunque, e a invocare San Giuseppe. No, no, non è mica che si invoca San Giuseppe da Copertino, non ho studiato niente, e arriva il miracolo, ci mancherebbe, insomma. Però ad Osimo, dove è conservato il corpo di San Giuseppe, ci sono tante fotografie, le foto, proprio le foto tessere degli studenti. È una cosa tenera, tenerrima, eccolo qui, lo vediamo. Sì, perché appunto lui ha saputo, San Giuseppe da Copertino, ha saputo combinare e una grande umiltà, come dicevo prima, una grande innocenza, perché lui si accorgeva che era un buon annullo, in un certo senso, sa che lo chiamavano bocca aperta, perché era sempre in estasi. E ciò nonostante, era legatissimo alla figura del Signore Gesù, il quale, da buon conoscitore della Sacra Scrittura della Bibbia, certamente utilizza la sua intercessione per aiutare gli studenti. C'è un'altra cosa da dire che è molto interessante, che può rispondere alla domanda, ma perché è andato a finire ad Osimo, come lei ha detto? E mi pare di sapere che Paola Saluzzi è cittadina onoraria di Osimo. La ringrazio per lo spazio. Ne ho parlato talmente tanto che dal comune di Osimo mi hanno detto, senta, venga qua, la facciamo cittadina onoraria, perché provate ad immaginare quanto io abbia potuto attaccare proprio i cartelloni per strada. Ogni occasione, per me, ma è una questione di devozione, ogni occasione buona per parlare di San Giuseppe da Copertino. E hanno fatto bene se le meritavano. Grazie. Perché quando spiccava i voli, naturalmente, ah, concedeva la grazia, come ho detto, ma creava qualche scompiglio ai frati. Allora, lo hanno spostato dalla grottella, su, su, su. Poi lo hanno mandato dai Capuccini a Fossombrone, poi lo hanno mandato ad Assisi, poi lo hanno mandato avanti a Napoli, finché gli hanno detto, lo mandiamo al nord, cioè fuori dal regno di Napoli, allora, lontano dal Salento, ad Osimo, e lì ha passato gli ultimi tredici anni della sua vita, con una biografia stupenda. Portava in giro, appunto, l'asino o l'asina, raccoglieva l'orto, andava alla questua, aveva capito che bisogna pensare nel fare le cose di questa terra alle cose di lassù, anche se il Signore gli ha chiesto di fare tanti voli. Pare Pasquale, ascoltarla è un piacere, mi deve credere, glielo dico sapendo sapendo di parlare a nome di tutti, perché in una quantità così piccola di minuti riuscire a raccontare tutto questo e a farlo capire è tanto. Ed essere ascoltati un altrettanto piacere. Allora, a proposito di ascolto, rimane con noi, eh, padre Gianluigi Pasquale. Ci sono quei meravigliosi ragazzi di questa vita, Michele e Arianna, dove siete? Pronti? Ciao a tutti, pomeriggio, tra pochissimo, alle 21.05 noi ci siamo con queste vita e questa sera sarà con noi un artista che con le sue parole, la sua arte, il suo talento, secondo me lui un po' ci rappresenta, rappresenta queste vita. Simone Cristicchi con noi! Poi ci sarà Marco Berri che è un bravissimo presentatore ma è anche un bravissimo prestigio, prestigio di prestigio, per fare questo gioco di prestigio, insomma è un mago, è un mago vero. Forse sparisce la ginestra stasera, sto ancora cercando di capire il gioco di prestigio e poi ci sarà la mia adorata Beatrice Fazzi e io sono contento ma non essere gelosa, amo più te però ci sarà Beatrice Fazzi amato da tutto il pubblico del V2 alle 21.05 E come sempre tante storie, storie di persone normali che però compiono gesti eccezionali che cambiano la vita davvero di tantissime persone. Vi aspettiamo, questa vita. Non mancate, Simone Cristicchi di tutti i giorni di Aventura e Centro vi aspettiamo. Ciao! Grazie Arianna, grazie Michele. Allora, la recita della coroncina della Divina Misiricordia intanto alle 21.05 questa sera TV 2000 questa è vita e questi sono gli appuntamenti da non perdere. Questo giusto per fare il quadretto finale a questa cartolina che ci è stata mandata. Dicevo ora la recita della coroncina della Divina Misiricordia poi siamo noi poi alle 14 di domani l'ora solare. Grazie a padre Gianluigi Pasquale e vi aspettiamo ancora qui con noi. Signori, grazie a tutti. Vi aspettiamo domani. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Prego. Guardisco bene, mi raccomando. Grazie a tutti.